L'INA Ferroviaria a Rovigo Chioggia, che cosa è emerso negli ultimi incontri con la Regione? È emersa la volontà da parte di tutti i soggetti di considerare questo come un asset strategico. L'incontro che c'è stato con l'assessore De Berti, che ovviamente ringrazio per la disponibilità al dialogo, insieme agli altri sindaci dei comuni che insistono sull'asta dell'asse ferroviario, è stato finalizzato da un lato a mettere a punto la gestione del servizio per il trasporto pubblico locale passeggeri. Quindi il fatto che è stato richiesto da parte della Regione l'attivazione di un bando per la sostituzione di alcune corse su ferro con corse su gomma. È stato fatto però anche un ragionamento più ampio, e cioè sulla necessità di collegare l'attività di natura infrastrutturale collegata alla linea ferroviaria con le considerazioni sulla ZLS. Sapete che la Regione sta lavorando attivamente sulla definizione delle linee guida dal punto di vista strategico per l'entrata in campo definitivo del progetto della ZLS. È necessario pensare a tutte le attività di collegamento fra il porto e il retroporto. Il porto è a Marghera, il retroporto sono i 16 comuni che insistono sulla sinistra Po. Questo significa due considerazioni. La prima è che l'hub di riferimento non può che essere l'interporto. Questo è il motivo per cui nell'ambito della definizione del piano strategico si sta ragionando sull'inserimento del comune di Rovigo e dell'infrastruttura interporto come protagonisti strategici nella definizione dell'intera programmazione relativa alla ZLS. E dall'altra il fatto che le scelte che dobbiamo fare sono in termini di modalità di trasporto delle merci. Su questo la modalità ferro è sicuramente una modalità strategica. e avere a disposizione un asset di natura ferroviaria che già esiste ma che se opportunamente potenziato è in grado di fornire quell'attività di collegamento tra porto e il retroporto è strategico e fondamentale. Quindi su questo stiamo ragionando. Io sono convinto che la Regione sarà un interlocutore attento e interessato alle considerazioni che stiamo cercando di fare anche a livello locale e quindi proseguiamo con fiducia in questa direzione. Si rischia effettivamente la chiusura della linea? La chiusura della linea no, perché comunque c'è l'attività di sostituzione su gomma. Va comunque pensato, come stavo dicendo prima, non solo la gestione del trasporto passeggeri ma soprattutto del trasporto merci. Allora tra il porto di Marghera e l'area del retroporto dei 16 comuni a partire dal comune di Polesella per arrivare fino ai comuni dell'Alto Polesine è evidente che ci sono due assi ferroviari che sono in grado di collegarli tra di loro passando per Rovigo e quindi l'asse ferroviario che da maestre passa per Padova e scende a Rovigo oppure l'asse ferroviario che da maestre scende a Chioggia e poi da Chioggia passa per Adria e per Rovigo. Quello per Padova è sicuramente saturo, l'altro invece ha delle potenzialità enormi e quindi io sono convinto che ragionando in questa maniera sia possibile riuscire al tempo stesso a potenziare un'infrastruttura strategica per il nostro territorio e fornire quella giusta attività di collegamento fra porto e retroporto e quindi valorizzare al massimo le potenzialità della ZLS. Grazie. Grazie mille.